Buongiorno a tutti, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Focus Periferie, mercoledì 17 aprile, qui con il nostro Walter Chirubini, Presidente della Consulta Periferia Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a tutti, siamo al 179esimo appuntamento e oggi diciamo abbiamo un pochettino una particolarità, sempre all'interno di queste iniziative del centenario degli antichi comuni milanesi e in particolare al centenario cosiddetto sociale, dove abbiamo riconosciuto tutte quelle realtà che, nate prima del 1923, continuano a svolgere la propria attività di varia natura, chi imprenditoriale, chi sociale, eccetera, e abbiamo qui un nuovo rappresentante, diciamo così, un rappresentante nuovo centenario come attività e anche prima, che è Alfredo Gentilini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Marinai d'Italia, mi mancava che a Milano ci fosse il mare. Poi le spiegherò come mai. Ci racconterà comunque, perché appunto il mare, cioè Milano voleva avere un grande porto, un porto di mare, poi non l'ha più avuto, però abbiamo ugualmente un porto che è esattamente la Darsena. Infatti, ed è proprio lì, no, che voi siete, Alfredo? Noi siamo proprio in Darsena, sì, dove la nostra associazione, che è il primo gruppo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, perché primo gruppo? Perché siamo stati costituiti nel 1911. Cioè mi stai dicendo che la primo gruppo dell'Associazione Marinai d'Italia è stata costituita a Milano? A Milano. Nell'unico posto dove non c'era il mare? In realtà, quando è stato costituito, si chiamava Unione Marinara. Poi è diventata nel tempo Associazione Nazionale Marinai d'Italia. 1911. 15 febbraio 1911. Però è un po' cambiata Milano, un po' cambiata la marina, un po' cambiati i mari, un po' cambiato tutto, immagino. Sì, forse un po' è cambiato. Però voi no, nel senso che voi cambiate, vi plasmate al tempo, ma siete ancora lì però. Quindi insomma, questa è interessante. Sì, diciamo che purtroppo, fino a qualche anno fa, negli anni 60-70, il gruppo aveva circa 1200 soci. Adesso siamo un po' meno. Siamo circa 300. insomma, però, marinai, cosa siete? Voi siete ex marinai? Noi siamo ex appartenenti alla marina militare. E la domanda che tutti si pongono, la curiosità che tutti hanno, marinai a Milano, perché? Eh, infatti. Beh, c'è una ragione molto semplice. Fino a quando il servizio militare veniva effettuato per chiamata di leva, tutti i giovani che si trovavano a lavorare per Alfa Romeo, cito alcune aziende a titolo di esempio. Alfa Romeo, Magnetti Marelli, B&B, cioè, Bromboveri, e non confundiamo con i B&B. Non ha B&B, quella lì. Tecnomaso italiano Bromboveri. Ok, insomma, lavori molto tecnici, immagino. Molto tecnici. Finivano in marina, perché la marina si trovava ad avere dei tecnici già capaci, stati qualificati e non aveva bisogno di addestrarli. E quindi poi, una volta che però finiva la leva, si tornava a Milano e non ci si perdeva di vista. Eh, si tornava in associazione. Dopo la leva, che allora era 24 mesi, se non mi ricordo, poi è andato a 18. Beh, in certi periodi è arrivato ad essere 28 mesi. 28 mesi. Sì, sì, sì. Al mare. Eh, insomma. 28 mesi a sgobare. Un'altra curiosità della nostra associazione negli anni 60 circa, quando avvenne il primo grosso, la prima grossa immigrazione dal sud, l'associazione assomigliava a un ufficio di collocamento. perché bastava che i provenienti dal sud, senza lavoro, avessero fatto il servizio militare in Marina, in sede, in associazione, trovavano lavoro. perché molti degli ex ufficiali di Marina che avevano lasciato il servizio militare, si trovavano ad essere personalità nell'ambito dell'industria lombarda e milanesi. un nome per tutti, Ottorino Beltrami che ai più forse dice poco, ma in tempi diversi è stato amministratore delegato di quella che oggi è la team e che si chiamava SIP è stato amministratore delegato della cassa di risparmio delle province lombarde e ha finito la sua carriera diciamo come presidente della sua lombarda. Era un ex ufficiale di Marina e lui tutte le domeniche era in sede. Questo è importante e fondamentale per far capire anche come appunto un attaccamento non solo quindi all'arma da cui appunto arrivate ma poi anche alla comunità che si crea intorno a questo. Sì, d'altra parte uno che ha vissuto per sei mesi un anno qualcuno anche più a lungo a bordo di una nave dove ovviamente la logistica lascia un po' a desiderare gli spazi sono piuttosto ristretti fare amicizia e accettare piccole divergenze che potrebbero non essere compatibili nell'ambito civile lì ci si educa ad accettarli insomma. La cosa interessante è che quella dell'associazione Marina d'Italia non è solo un'azione appunto interna dell'associazione è qualcosa però che poi fa bene anche alla nostra comunità e alla nostra città giusto Valter per questo tu hai voluto anche ricordarli come appunto più di cento anni anche al servizio comunque di questa città. Quello che è interessante è questa particolarità nel senso che noi abbiamo a Milano tantissime cose uno basta come si dice normalmente basta girare e si trova di tutto però viene anche disperso questo tutto non lo si vede allora aver voluto riprendere questa questa cosa perché è legata anche al tema delle acque da un certo punto di vista e anche una certa attività che c'è perché appunto uno dei dei soci diciamo così dell'associazione adesso stiamo cominciando a vedere in questo periodo una gondola che viaggia sui Navigli e noi teniamo conto che appunto sui Navigli abbiamo due realtà storiche Canottieri Olona Canottieri Milano ma poi abbiamo anche la più recente Canottieri San Cristoforo che è molto più giovane diciamo così le altre sono centenarie e queste no ecco per cui c'è una realtà che viaggia sulle acque che si interessa di acque e ecco qui possiamo anche vedere le iniziative che fa l'Associazione Nazionale Marinei d'Italia che è anche un luogo piuttosto interessante sulla Darsena proprio posizionato sopra la Darsena ma Darsena scusa Alfredo se ti interrompo Darsena che tra particolari è un luogo particolare perché mi dicevamo prima fuori onda è a tutti gli effetti un porto a tutti gli effetti un porto ok scusami a tutti gli effetti un porto fra le iniziative purtroppo passate che l'Associazione Marinei ha realizzato ce n'è una che veniva chiamata il rally dei navigli questo rally dei navigli veniva partecipato da chiunque e volesse costruire delle imbarcazioni strane io ricordo imbarcazioni fatte con bidoni da quelli da benzina da 200 litri addirittura con il barbecue sopra che si preparavano da mangiare mentre scendevano lungo il naviglio e questo rally dei navigli partiva da Gaggiano e finiva in Darsena per chi ci arrivava in Darsena si per chi ce la faceva ci arrivavano normalmente ci arrivavano tutti chi prima chi dopo posso dire questo quando succedeva questa cosa più o meno intorno agli anni 80 datemi la camera allora ecco cioè Red Bull non ti sei inventato niente non ti sei inventato niente se sapete Red Bull fa una roba molto simile con veivoli costruiti a mano barche costruite a mano spesso sui fiumi d'Europa viene fatto quindi vetti negli anni 80 già la associazione dei marinari d'Italia in Darsena lo faceva complimenti un'altra cosa che noi facevamo ed era un momento di veramente piacevole da partecipare era che a questo rally attraverso imbarcazioni che venivano da Spezia noi portavamo lungo i navigli i ragazzi del cotolengo e del don Gnocchi io ricordo in particolare era così un ragazzo che purtroppo non aveva né braccia né gambe che quando saliva sul gommone degli incursori della marina che facevano da sostegno da appoggio diventava matto trasmetteva ilarità piacevolezza felicità a tutti noi veramente una cosa stupenda questo è sempre uno degli esempi di quanto appunto un'associazione come la vostra che magari può essere particolare nel nome diciamo Milano in Marinare cosa c'entra invece può fare davvero tanto per la comunità e sono tante le realtà così che voi avete appunto mappato trovato raccontato anche in questo centenario sociale come l'avete dovuto chiamare voi ma il centenario sociale appunto sarebbe interessante capire l'evoluzione della darsena ma perché la darsena sicuramente rispetto a quella che ci ricordiamo proprio degli anni magari quando eravamo molto più giovani e quindi ancora c'erano i barconi che andavano sono spariti e è cambiato tutto l'assetto ma ritornando a noi sul sito periferiemilano.com abbiamo mappato un migliaio di indicatori articolati anche per ciascuna delle realtà dei municipi dal 2 al 9 proprio perché essendo consulta periferia Milano ci occupiamo dell'area esterna al centro e soprattutto per rappresentarla perché questo è il tema piuttosto importante dove l'importanza di conoscere l'articolazione territoriale di queste realtà ci aiuta anche a costruire un ambiente sociale c'è una chat del municipio 5 che hanno costruito recentemente Mario Donadio tra le altre cose che è un diciamo un amico di il gruppo Whatsapp Los Amicos e quindi è iniziato con più di 60 realtà associative oggi siamo circa 80 ecco quindi abbiamo questa forza che però è dispersa e la necessità di metterla a fattore comune quindi la prima cosa conoscere la seconda logica è quella di cercare di far assumere a queste realtà il territorio nel quale abitano perché tanti fanno delle cose però sono esattamente dispersi invece la proposta che si consoliderà anche in questo periodo è quella di costruire delle realtà che dicano va bene noi siamo qui non tanto per quello che facciamo ma perché cerchiamo di assumere prendere in carico questo pezzo di territorio che può essere una zona può essere un quartiere in una maniera anche abbastanza stabile ho in mente da un certo punto di vista è un'associazione di idee un pochettino bislacca devo dire comunque pensiamo Aldo, Giovanni e Giacomo loro che cos'è che hanno fatto si ritrovavano comunque tutti i giorni alle 14 a fare che cosa è a seconda e poi è venuto fuori appunto Aldo Giovanni per cui se uno si concentra su un certo tipo di realtà e comincia a avere una compagnia anche poi vengono fuori delle cose piuttosto interessanti si dice sempre facciamo sistema facciamo rete ecco invece di essere una cosa un po' accidentale se diventa una cosa strutturata può essere sicuramente molto più efficace e quindi anche il giro alla Darsena l'associazione nazionale marinai d'Italia che tra l'altro è un bel luogo dove siete ubicati alla Darsena è il luogo di tutto e di nessuno io in realtà non so come mai ma credo perché parecchi anni fa era una zona non utilizzata forse considerata depressa dai più ci venne costruita una capanna in legno che poi negli anni settantaquattro con il contributo di tutti noi è stata progettata fra l'altro da un altro famoso marinaio a Milano e nel mondo l'architetto Zanuso ex anche lui ex ufficiale che ha progettato la sede ed è stata edificata come è adesso ecco adesso è così domani cosa sarà cioè cosa sarà il futuro dell'associazione e quali sono le attività che vi state pensando appunto di continuare in questi altri cento anni speriamo di fronte a voi noi al momento facciamo attività nell'ambito del sociale in che modo abbiamo un dragon boat su cui si imbarcano normalmente a remare delle signore operate al seno perché il dragon boat stando a medici illustri sembra funzioni bene nel riequilibrare i muscoli del seno delle signore operate interessa quindi non è solo un discorso di team building o di stiamo bene insieme è proprio anche un discorso fisico che aiuta appunto le signore a riprendersi sullo stesso dragon boat imbarchiamo bambini disabili ovviamente accompagnati da adulti per evitare qualunque inconveniente facciamo scuola di canoa organizziamo corsi di canoa organizziamo corsi di SUP sarebbe quell'imbarcazione che viene fatta avanzare stando in piedi e remando in piedi e poi ovviamente la gondola che crea tanta diciamo curiosità ma a Milano forse la gondola è quello e basta vabbè si fa l'unica gondola che penso ci sia non so se è l'unica a Milano ci sono anche altre gondole al momento ne abbiamo vista una poi vedremo se avrà che è interessante perché appunto ci sono anche dei corsi più che da gondoliere ma per prendere pratica proprio per manovrare le gondole che è uno stile proprio rematorio completamente diverso è un modo di la voga veneta è un modo di gestire le imbarcazioni totalmente fuori da ogni regola insomma però ha le sue regole ecco 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 e sembra addirittura che sia un modo di portare le imbarcazioni molto di moda ah adesso è un attimo il vintage il trend il ritorno è un attimo quindi sfruttatelo finché funzioni per me da dire perfetto allora ci sono appuntamenti che vogliamo ricordare o cose imminenti oppure ci sono delle coordinate con cui possiamo seguirvi noi abbiamo un nostro sito facciamo oltretutto facciamo da coordinatori di quello che per i giovani che volessero imbarcarsi su delle imbarcazioni della Marina Militare perché un'altra cosa che non è molto nota escludiamo il Vespucci che in questo momento sta facendo il giro del mondo quindi si trova in Cile ma attraverso la Marina Militare si possono passare delle giornate a bordo del Vespucci quando sarà in Italia ma a bordo del Palinuro ed è anche questo una iniziativa che fa bene sicuramente ai ragazzi ma chiunque non è un discorso di vado a fare il militare vado a fare il marinaio no non c'entra niente col falle militare uno che volesse trascorrere 10-15 giorni a bordo di una nave scuola come il Vespucci o il Palinuro deve fare domanda deve sottostare a certe regole deve sapere certe cose per cui non è che vengono in vacanza e quindi voi potete anche fare questo percorso di avvicinamento a questa esperienza noi facciamo anche questo molto interessante molto interessante Walter invece interessantissimo questo weekend che viene è un weekend importante per la consulta periferia a Milano o meglio per tutta Milano e per conoscere meglio la periferia a Milano ma diciamo che finito il MiArt adesso c'è il salone del mobile interno e esterno chi vuole diciamo così uscire dall'affollamento e vuole andare come al solito al terzo fine settimana di ogni mese a conoscere la realtà territoriale milanese può farlo attraverso alcune occasioni appunto sul sito periferia artami.it abbiamo in programma una ventina di appuntamenti nell'arco delle giornate da venerdì 19 a domenica 21 che cosa si può andare a vedere si può andare a vedere a Garegnano la Certosa di Milano sicuramente uno dei monumenti più apprezzabili che ci sono a Milano sono stati insieme io e te a vederla più di una volta certamente abbiamo fatto trasmissioni e quant'altro ecco importante segnalarla perché perché malgrado sia proprio attaccata all'uscita dell'autostrada dove passano migliaia decine di migliaia di persone però è ancora stranamente poco conosciuta Milano stranamente non proprio perché perché Milano è concentrata sul centro quindi se pensiamo anche dei beni architettonici quando noi abbiamo il Duomo la Scala la Galleria poi andiamo al Castello Sforzesco c'è l'acolo Vinciano e poi per i più sportivi lo stadio diciamo che è tutto chiuso gli altri gli altri monumenti gli altri luoghi non sono segnalati sostanzialmente noi non abbiamo diciamo così una cartellonistica ogni tanto c'è qualcosa ma non c'è un'immagine che c'è anzi una modalità di comunicazione che possa riguardare tutta la città e quindi ci perdiamo molto spesso anche se è nota ci perdiamo Chiaravalle quindi a Chiaravalle in particolare non andiamo a proporre l'abbazia che naturalmente ciascuno potrà andare a vedere invece una realtà diversa che è terra rinata cioè un'oasi verde dove ci sono tutta una serie di percorsi dove uno può diciamo così rilassarsi dalla frenesia quindi dal corvetto bus 77 se volete andare sicuramente è un'occasione oppure possiamo per rimanere anche al tema delle grandi monumentalità all'Acquabella si può andare scoprirete dov'è l'Acquabella perché appunto noi a Milano abbiamo mappato 239 toponimi diversi zona est zona est diciamo che poi dopo c'è l'Ortica che è un pochettino più tra l'Ortomercato e l'Ortica credo sia l'Ortica e quindi la Basilica dei Santi Nereo Achilleo che ha alcune preziosità anche recenti proprio con 6 quadri enormi di 20 metri quadri ciascuno con la rappresentazione della Natività da una parte e dall'altra la Quaresima dopodiché abbiamo altre realtà tipo al quartiere Gallaratese secondo non primo ma il secondo abbiamo il complesso residenziale perché è stato costruito in una seconda battuta per esempio non è quello davanti a Moniodorino no si sposta verso Trenno esattamente verso Ovest Montamata dove stiamo andando quindi il complesso di Montamata no complesso residenziale Monte Amiata famosi architetti Aimonino e Rossi cosiddetto anche Drago Rosso che però via Cilea via Falca in particolare via Falca e il ritrovo dove però è sconosciuto vengono mediamente una trentina di delegazioni dall'Europa e anche dal resto del mondo a visitare il complesso tra l'altro i residenti che sono circa 2000 in questo complesso hanno anche costruito una struttura di ricezione uno va e viene dato il proprio badge eccetera quindi c'è un'accoglienza da questo punto di vista pensate che anche come struttura sociale ha un anfiteatro di circa 600 posti dove si stanno cominciando a fare anche qualche iniziativa di carattere diciamo così artistico ricreativo oppure possiamo avere un luogo direi che è fondamentale per Milano che è il deposito di tutto il sapere diciamo così cartografico e non solo che è la cittadella degli archivi del comune di Milano diciamo così nella zona di Niguarda più precisamente è nell'area di Prato Centenaro dove appunto ci sono questi grandi diciamo così strutture che dei quali tutto quello che riguarda la documentazione del comune di Milano c'è una indicazione sulla città degli archivi c'è un robot che la gestisce che si chiama Eustorgio Eustorgio esattamente volevo raccontarvi questo dimmi Alfredo ma io mi permetto di dire se i milanesi non sanno come passare un po' di tempo possono anche venire a visitare la nostra sede perché perché aggiungiamola alle iniziative che si possono fare noi siamo aperti il sabato pomeriggio e la domenica mattina nella nostra sede ovviamente è una sede che raccoglie oggetti storici possiamo vedere la galleria dei nastrini i nastrini sono il nome della nave che viene portata da tutti i marinai sul cappello abbiamo una raccolta di crest i crest sono quegli oggetti montati su legno che sono il simbolo di un'associazione di un gruppo ne abbiamo qualcosa come 300 erotti abbiamo una bandiera storica che è la bandiera dell'incrociatore fiume che fu affondato durante la seconda guerra mondiale e per finire abbiamo un oggetto che da un punto di vista storico è sicuramente la cosa più importante abbiamo una cassa rapida di immersione facente parte di un siluro a lenta corsa il siluro a lenta corsa era uno strano oggetto che durante la seconda guerra mondiale ha fatto storia in particolare nelle azioni svolte svolte da durante la pen nel porto di Alessandria dove lui e i suoi compagni di avventura fecero saltare per aria due corazzate tanto che Winston Churchill allora primo ministro inglese disse che avevano fatto più danni sei uomini che tutta la flotta della marina militare e questo è un oggetto che è stato raccolto durante un dragaggio nel porto di Gibilterra e è quello che rimane di un siluro a lenta corsa passato alla storia come maiale per chi ha una certa età del tenente di vascello Licio Visentini questo ragazzo perché era giovane entrò per due volte nel porto di Gibilterra portando ad compimento le sue azioni la terza volta siccome gli inglesi avevano già preso la batosta di Alessandria avevano imparato in modo graduale a buttare delle bombe di profondità ovviamente una bomba di profondità con delle persone in acqua voleva dire ucciderle e così è stato per lui però dice la storia che riconoscendo l'atto eroico di queste persone gli inglesi durante la tumulazione delle due salme gli resono gli onori militari cosa che non facevano mai nei confronti dei nemici quindi tanta storia anche nella sede dei marinai d'Italia bene ci possiamo associare da questo punto di vista uno dei luoghi al parco di trenno dove c'è il cimitero di guerra del Commonwealth dove anche in questo periodo anche tenuto conto 25 aprile eccetera può essere un monito da un certo punto di vista ecco quindi ci sono poi a Crescenzago c'è Casaberra tra le altre cose come anche l'ex municipio di Crescenzago tutto questo lo troviamo sul sito giusto? periferiartme.it e quindi potremo anche associare da adesso in poi l'associazione nazionale marinai d'Italia di via Gorizia 9 e quindi diciamo nella parte della Darsena vabbè che c'è anche il ponte volendo nella parte sud della Darsena perfetto allora Alfredo grazie mille di essere venuto a trovarci porto i nostri saluti a tutta l'associazione grazie ancora per quello che fate nella nostra città grazie anche a Tevalter per tutte le indicazioni anche per questo importante weekend di Periferie Artme e noi ci vediamo alla prossima puntata con Difocus Periferie certamente grazie mille anche a voi alla prossima buona giornata a tutti a presto grazie mille a tutti